La verità, ma anche per imparare. Una lezione preziosa. Dunque se ne deduce che i soli falsi che hanno valore sono anonimi. E che falsari che fanno falsi firmati sono degli imbecilli. Lei ha incontrato l'amore. Che ci senza circonferenza ne c'entro. Ma come ti vengono in me... Then we'll take your grandma to the hospital. I hope she can make it. She will. Just give me the knife. I don't want you to get hurt. Here. Take the knife. Take the knife! Take the knife! I'm a big journal, George! I'm a big journal. I'm a big journal. Grazie a tutti Most easily and carefully Listen, you don't think I... Shut your mouth, you stupid bitch Or you'll be drawn and quartered Now, if you'd like a little really good advice It would be listen with great care to my business partner Desiree, what have you happened? What are you doing? No! 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 I know they're out there with a type of class C'est dégueulasse Elle en parle déjà au passé Bon, ça suffit comme ça Vous savez que ce soir, on sort avec maman Et que c'est important pour elle Vous les casse, c'est la fille qui travaille à la poste Madame Félicie, avez-vous quelque chose à dire Au rapport de l'histoire de votre fille? Oh oui che non posso farmi vedere, te l'ho già detto, arrivederci oh Dice, ti amo, Corsair. Non lo capisci l'italiano? Che troia! Vuoi sapere che malattia è la mia? Pampirismo! 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 State giù! Pampirismo! Che cosa sta facendo? Si direbbe... ... 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